Si sblocca con un compromesso lo stallo sulle nomine, sarà Fabrizio Palermo, il nuovo amministratore delegato di Cassa, Depositi e Prestiti. Palermo, attuale direttore finanziario della Cassa, era il nome più gradito e 5 Stelle Tria, sceglie invece la squadra del Tesoro. Smentiti i disaccordi e possibili dimissioni del titolare di Via 20 Settembre, attesa per gli incarichi di Rai e Ferrovie. Di Maio riapre la partita dell'Ilvede, polemica rovente con l'ex ministro Calenda, dopo i rilievi dell'anticorruzione sulla correttezza della gara che ha assegnato il gruppo siderurgico ad ArcelorMittal. Chi ha fatto questo pasticcione dovrà rispondere, attacca Di Maio, è tutto falso, risponde Calenda, invitando il suo successore ad annullare la gara se la ritiene viziata. Dopo le minacce e il passo indietro, l'Italia non bloccherà le navi della missione Sofia, uno strappo che avrebbe portato alla fine dell'operazione, ma grazie al pressing di Roma si registra un'accelerazione nelle trattative per la revisione del mandato. Una nuova proposta, spiegano fonti di Bruxelles, dovrebbe essere pronta già la prossima settimana. Accordo nella notte tra Israele e Hamas per il cessato del fuoco a Gaza, dopo le violenze di ieri nelle quali quattro palestinesi erano rimasti uccisi e 120 feriti per i bombardamenti dell'esercito israeliano. Un'azione che per lo Stato ebraico è stata la risposta agli spari dei cecchini che avevano ucciso un soldato israeliano. La tregua finora è stata annunciata solo da Hamas e da Israele, nessuna conferma. Per il Milan si riaprono le porte dell'Europa League con il tasse che accoglie il ricorso contro l'esclusione del club dalle coppe europee sancita dalla UEFA. Indagato intanto per falso in bilancio Yongong Li che attacca il fondo Elliot ha orchestrato il mio default. Oggi l'assemblea dei soci rossoneri ratificherà il CDA e nominerà il presidente, salvo sorprese, sarà Scaroni. 7.31, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Allora è tempo di nomine questa settimana di fine estate, di fine luglio. Si attende ovviamente quella del Milan, abbiamo sentito nei titoli, ma la cosa più importante è che si è invece sbloccata l'impasse su cassa, depositi e prestiti. Un preludio, dicono i commentatori politici, a quello che potrebbe accadere non solo nelle prossime settimane, quando bisognerà sistemare ancora le caselle di Rai e Ferrovie dello Stato che a questo punto andrebbero a uomini della Lega, ma quando si giocherà la partita più importante, ovvero quella della legge di bilancio. Dopo il rinvio repentino di giovedì è arrivata la fumata bianca sulla nomina del vertice di cassa, depositi e prestiti. Il governo ha trovato l'intesa sul nome di Fabrizio Palermo, nuovo amministratore delegato della controllata del Ministero dell'Economia e già direttore finanziario della cassa. La nomina è giunta dopo il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia Giovanni Tria e il vicepremier Luigi Di Maio e dovrebbe essere comunicato ufficialmente il 24 luglio, quando si riunirà l'Assemblea di Cassa Depositi e Prestiti. Date le distrettezze di bilancio, il governo vorrebbe trasformare la cassa nello strumento principale delle politiche economiche. Forte di un attivo patrimoniale di 367 miliardi e capace di avviare investimenti per quasi 60 miliardi, la cassa gestisce 321 miliardi di euro depositati dagli italiani in buoni e libretti postali ed è socio a vario titolo in fincantieri e in Iterna, Italgas e in Team. Non penso ci siano state tensioni nel governo per le nomine, ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini, assente al vertice. E da parte sua il vicepremier Luigi Di Maio ha precisato mai chieste le dimissioni del ministro dell'economia. Dalla discussione sui vertici della cassa depositi e prestiti sarebbe invece emersa la posizione di Giovanni Tria a favore della nomina di Darius Cannapieco, che resta alla Banca Europea degli Investimenti. Il ministro dell'economia sembra invece spuntarla su una nomina del nuovo direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, attuale responsabile al ministero della divisione che si occupa di banche e fondazioni bancarie. Partita ancora aperta invece sulle nomine dei vertici di ferrovie e RAI. Il summit di governo rinviato a martedì 24 luglio servirà a questo punto a sciogliere le riserve su Giuseppe Bonomi, che dalla gestione degli aeroporti di Milano potrebbe passare alla guida di ferrovie dello Stato. Sarà difficile invece sciogliere il nodo della nomina del nuovo direttore generale RAI già martedì prossimo. Secondo quanto filtrato, non ci sarebbe accordo tra Lega e 5 Stelle sulla poltrona di Viale Mazzini. E a proposito di vertenze e nodi da sciogliere, quello dell'ILVA è sicuramente uno dei più complicati, se non altro perché in campagna elettorale il Movimento 5 Stelle si era impegnato per una sostanziale chiusura dello stabilimento e adesso si trova invece a dover fare i conti con questa cordata, quella di Arcelor Mittal, che dovrebbe per l'appunto subentrare a partire dal 15 di settembre. Non a caso proprio dal Movimento 5 Stelle era stato chiesto un parere dall'ANAC, un parere che però dice oggi il suo presidente Raffaele Cantone in realtà non competeva esattamente a quell'autorità che comunque ha fornito solo un'indicazione giuridica e mette per l'appunto una serie di paletti e dice che non deve essere base per una decisione che sarà invece solo politica. Nel difficile dossier sulla più grande acciaieria d'Europa, l'ILVA, entra un nuovo duro scontro. In ballo c'è la procedura che ha portato Arcelor Mittal ad aggiudicarsi la gara, uno contro l'altro. Questa volta ci sono il ministro per lo sviluppo economico Di Maio e il suo predecessore Carlo Calenda. Di Maio in un'aula della Camera praticamente vuota ha parlato di un gran pasticcio fatto dallo Stato e dal Ministero dello Sviluppo Economico quando è stata bandita la gara. Un attacco diretto al precedente governo e proprio all'ex ministro Calenda. Parole pronunciate dopo aver ricevuto la relazione dell'autorità anticorruzione in cui si parla di possibile violazione della libera concorrenza a discapito anche della seconda arrivata la Chai Italia che faceva capo al colosso indiano Jindal. Non sarebbe stato preso in considerazione il suo rilancio sull'offerta anche se superiore a quella di Arcelor. Inoltre i termini per l'attuazione del piano ambientale sono stati cambiati in corsa. In un primo momento si era parlato del 31 dicembre del 2016, poi del 30 giugno del 2017 e infine del 2023. Secondo l'ANAC, chi ha presentato la sua proposta prima dello slittamento dei termini sarebbe stato danneggiato. Chiederò chiarimenti ai commissari dell'ILVA, ha annunciato il vicepremier. Avvierò un'indagine interna al ministero e chiederò un parere della buocatura dello Stato. Secca la risposta di Carlo Calenda, secondo il quale minacciare un'indagine interna al Mise è vergognoso. Caro Di Maio, ha scritto Calenda, hai detto cose gravi e false. Assumiti la responsabilità di annullare la gara. Un'ipotesi questa che costerebbe al governo 4 miliardi. Da parte sua, Arcelor Mitt ha l'annunciato che a giorni presenterà una nuova proposta migliorativa. Siamo entusiasti e motivati, si legge nel comunicato. Ribadiamo il rispetto degli impegni presi. Pietro Grasso dovrà restituire al suo ex partito 82 mila euro. Suo ex partito è il Partito Democratico, lo ha deciso il Tribunale di Roma, che ha emesso un decreto ingiuntivo nei riguardi dell'ex presidente del Senato, che dovrà appunto pagare le quote che i parlamentari dem avevano deciso e si erano impegnati a versare mensilmente appunto al partito. Immediata la replica di Grasso che dice non ho ancora ricevuto nulla e comunque quando arriverà il decreto farò opposizione. Invece noi adesso ci occupiamo di immigrazione, sapete dell'attivismo del governo nel rivedere le regole d'ingaggio di Sofia, dell'operazione di recupero e soccorso nel Mediterraneo, che erano già, diciamo così, stabilite in calendario, ma che verranno a questo punto accelerate. Sarà presentata presto, probabilmente già la settimana prossima, una proposta di revisione strategica della missione Sofia e del suo piano operativo, revisione da concludere entro poche settimane tenendo conto degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno. Questo è il risultato della importantissima riunione di ieri del Comitato Politico e di Sicurezza che riunisce gli ambasciatori dei 28, riunione che aveva al centro la discussione sulle implicazioni dell'annuncio di Roma, di non voler applicare più le disposizioni del piano operativo che individuano solo l'Italia come luogo di sbarco dei migranti soccorsi delle missioni europee. Un confronto nel corso del quale, stando a quanto filtrato da diverse fonti europee, sarebbero stati molti i paesi membri a manifestare insoddisfazione per la decisione italiana. Ma ieri è arrivata anche la risposta del presidente della Commissione Juncker ad un'altra lettera giunta da Roma, in realtà due, una del 14 luglio e un'altra del 17 luglio, questa volta del Premier Conte, indirizzata, oltre che al numero uno dell'esecutivo comunitario, al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, missiva nella quale si chiedeva alla Commissione di assumere un ruolo chiave nel coordinamento degli sbarchi dei migranti, attraverso la creazione di una cabina di regia in grado di coordinare le azioni degli stati membri, individuare il porto di sbarco e i paesi disposti ad accogliere i richiedenti asilo. La Commissione è pronta ad assumere il proprio ruolo di coordinatore, ha scritto Juncker, sostenendo di condividere il senso di urgenza espresso dal Premier italiano, ma anche ricordando che l'Unione Europea non ha competenza nella determinazione del porto sicuro in seguito ad un'operazione di ricerca e salvataggio. La prossima settimana, le prime proposte della Commissione ci diranno quanto le richieste di Palazzo Chigi abbiano realmente fatto breccia. Buona notizia arriva dal Medio Oriente dove sarebbe scattata una tregua questa notte. Per ora, riconosciuta, diciamo così, annunciata da Hamas, Israele ancora ufficialmente non ha detto niente, ma tutto lascia presagire che si vada appunto in una direzione di non belligeranza. Era circa l'una di notte quando un portavoce di Hamas ha annunciato il ritorno del cessato il fuoco nella striscia di Gaza. La calma è tornata nella zona grazie alla mediazione di Egitto e Nazioni Unite dopo ore di attacchi e una situazione di crescente tensione che ha portato le due parti sull'orlo di un nuovo scontro militare. Per ora nessuna conferma della tregua è arrivata da Israele che però aveva dichiarato di voler rispondere alla calma con la calma. E per ora non ci sono segnali che facciano pensare a un'imminente invasione nei territori palestinesi. Gli animi si erano scaldati durante i funerali di un miniziano di Hamas ucciso sul confine del fuoco israeliano mentre partecipava al lancio di palloni incendiari. Per vendetta un gruppo di cecchini di Hamas ha teso un'imboscata a una patoglia israeliana nella quale un soldato è rimasto ucciso. La reazione israeliana è stata immediata con un bombardamento che ha coinvolto tutta la striscia striscia dalla quale sono poi stati sparati diversi colpi d'arma da fuoco e qualche razzo. Il bilancio è di almeno 4 palestinesi morti e 120 feriti. Dopo 7 ore dall'attacco verso mezzanotte l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 60 obiettivi di Hamas. Molte postazioni erano state già evacuate per tempo aspettando la controffensiva israeliana. Da quando a marzo è iniziata la marcia del ritorno dei palestinesi la protesta per chiedere il ritorno alle terre espropriate dopo la proclamazione dello Stato di Israele nel 48 sono morti 137 palestinesi. L'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente aveva lanciato un appello a Israele e Hamas di allontanarsi dall'orlo del precipizio. Si torna inevitabilmente a parlare di terrorismo anche se al momento non c'è alcuna evidenza di questo in Germania in seguito a un attacco avvenuto a Lubecca un uomo era a bordo di un autobus che era diretto verso il mare ha estratto un coltello e ha ferito 10 persone tre di loro sono in gravi condizioni. Quest'uomo è un tedesco di 34 anni di origini iraniane aveva anche uno zainetto con sé con del materiale infiammabile pronta alla reazione dell'autista che ha subito aperto le porte del mezzo facendo scendere i passeggeri e quindi salvando in qualche modo loro la vita. In Italia invece se si sta concludendo in questi minuti una operazione importante ad opera della Polizia di Stato in Calabria pensate sono state individuate tre piantagioni di marijuana per un totale di 26.000 piante l'hanno intitolata con forse un pizzico anche di ironia Giardini Segreti Operazione Giardini Segreti e vede coinvolte parecchie città italiane fra l'altro nello smercio della sostanza e invece di tutt'altra natura la sorte del benzinaio del benzinaio di busto Arsizio Marco Lepri di 39 anni che versa davvero in condizioni molto gravi è stato ferito ieri da un colpo di pistola durante questa rapina che è avvenuta è stato pedinato fino a casa e i rapiratori gli hanno sparato tre volte colpendola appunto al torace all'addome e ad una gamba e poi sono fuggiti a bordo di uno scooter portandosi via l'incasso della giornata è la quinta rapina pensate che l'uomo subisce in cinque anni di attività l'ultima era stata nel 2016 e adesso parliamo invece di tutt'altro argomento parliamo di multe e soprattutto di chi le deve recapitare non ci sarà più diciamo così il monopolio delle poste d'ora in avanti non sarà più solo il postino a recapitare multe atti giudiziari nella buca delle lettere a introdurre la novità che segna la fine del monopolio di poste italiane e l'apertura del mercato ad altri operatori e il decreto firmato ieri dal ministro del lavoro Luigi Di Maio che definisce le procedure per il rilancio di licenze speciali anche per i privati il via alla liberalizzazione arriva a quasi un anno dalla legge per il mercato e la concorrenza dell'agosto dello scorso anno che aveva abrogato la norma che prevedeva l'affidamento esclusivo a poste italiane per la notifica di multe e atti giudiziari a questa era seguita lo scorso febbraio una delibera della Gcom l'autorità garante per le telecomunicazioni che di recente nella sua relazione annuale era tornata a sottolineare un ritardo nell'attuazione della legge poi ieri la firma del ministro le nuove licenze saranno rilasciate dal ministero dello sviluppo economico le imprese che intendono operare sul mercato potranno scegliere se abilitarsi per entrambi i servizi multe e notifiche giudiziarie o solo per le contravvenzioni tra i requisiti di affidabilità richiesti una fideiussione autonoma irrevocabile a prima richiesta per un importo che va dai 20.000 euro per licenze su base regionale a 100.000 sul territorio nazionale inoltre occorreranno certificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e bisognerà dimostrare di non trovarsi in stato di fallimento liquidazione coatta o concordato preventivo un provvedimento che consentirà un importante abbattimento dei costi per le amministrazioni dello Stato dice Di Maio soddisfatti anche i consumatori ora le aziende concorrenti garantiscano tempi di consegna certi e tariffe più competitive ha commentato il presidente del CODA con Scarlo Rienzi il decreto sarà inviato ora alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale lo sport il calcio con le buone notizie che arrivano per il Milan riammessa alla prossima Europa League come un gol a tempo scaduto per rimettere palla al centro e ricominciare a giocare i supplementari ma anche tutto un nuovo torneo con una metafora calcistica questo è l'effetto della decisione del tribunale arbitrale dello sport di Lausanna che ha riammesso ieri il Milan alla prossima Europa League cancellando dunque la sanzione inflitta dalla UEFA poco più di tre settimane fa per gravi infrazioni del fair play finanziario il ricorso del club rossonero in realtà è stato solo in parte accolto dal TAS i giudici hanno ritenuto che la squalifica sia stata eccessiva rispetto alle responsabilità della gestione economica della società ma la UEFA punirà comunque il Milan con una sanzione economica da definire per poter poi concedere un nuovo tentativo di settlement agreement per il rientro nei paletti del fair play finanziario decisivo per questa inversione di rotta è stato l'ingresso del fondo di investimenti statunitense Elliot il fondo di Paul Singer infatti acquisita la titolarità del Milan in default per l'insolvenza di Yongong Li ieri tra l'altro indagato dalla procura di Milano per false comunicazioni ha garantito davanti al TAS un business plan pluriennale per risanare il club che anche solo per la riammissione al secondo torneo europeo incamererà così almeno una decina di milioni di euro il reintegro del Milan consente anche di dare una direzione alle prossime mosse di mercato dei rossoneri i big che attendevano il verdetto del TAS da Donnarumma a Suso fino a Leonardo Bonucci a cui sono interessati il Manchester United e il Paris Saint Germain dell'ex compagno Buffon adesso potrebbero avere interesse a restare anche se il Milan per fare mercato il sogno resta morata dovrà necessariamente privarsi di qualche pedina di peso e la sentenza di Lausanna finisce per riguardare anche altre squadre in primis la Fiorentina che in teoria ripescata in Europa League come settima classificata dovrà rivedere adesso programmi e mercato a partire magari da quel Federico Chiesa che ora sarà davvero difficile proteggere dagli assalti delle grandi e allora sono le 7.48 in questo momento quindi mi fermo lascio la linea Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo questa mattina alla conduzione di Omnibus e Marco Fratini noi invece ci vediamo come sempre se volete a partire dalle 7 di domani buona giornata a partire